Ci troviamo qui all'inaugurazione di Mondo Fitness, eccomi qui insieme a Fabio Inca, Impacto! Impacto Training, bravissimo, ormai ci conosciamo! Sì, il Petzlar Training dei VIP ormai si è diventato! Ma noi alleniamo tutti, non ci importa se sono VIP o non sono VIP, l'importante è per noi allenarsi all'aria aperta, stare insieme, ottenere risultati e soprattutto come ormai penso che... Tu lo sai, vediamo se lo sanno anche loro, noi ci alleniamo solo all'aperto, non abbiamo una palestra, ovvero meglio la nostra palestra è ovunque, my gym is everywhere! Noi ci possiamo allenare, ci alleniamo a Piazza Navona, al Colosseo, nei parchi, nelle ville, Villa Panfili, Villa Ada, basta seguirci sul nostro sito www.impacto-training.com e vedrai tutto il planning delle lezioni settimanali. Siamo veramente una palestra itinerante, giriamo e facciamo lezioni ma siamo sempre di più, sempre di più, sempre di più! Sempre più seguiti e qualche anticipazione di quest'estate fitness? Quest'estate qui a Mondo Fitness, dici? Guarda, sarà un'edizione spettacolare anche questa, già è tutto pronto, ci saranno varie attività, sempre all'aperto, sempre nella stessa filosofia, insomma, venite che c'è da divertirsi! Perfetto, questo è l'invito di Fabio Inca, i risultati li potete vedere anche nel sito che ricordiamo? www.impacto-training.com oppure la mia pagina Facebook, Impacto Training, seguiteci! Perfetto, ti ringrazio e allora buon proseguimento! Grazie! Ciao, ciao, ciao grande! Ciao a tutti! Ciao a tutti, per il momento è tutto, Mondo Fitness! Grazie Fabio! Poi mi mandi il link dove...